Una batteria in grado di produrre e accumulare energia elettrica che si autoricarica utilizzando soltanto 200 cc di acqua di mare. È il progetto Lighting Sea, un dispositivo elettromeccanico realizzato da un giovane creativo napoletano Stanislao Montagna, che promette una piccola rivoluzione nella produzione e nello stoccaggio pulito di energia. Il dispositivo può produrre 5-6 volt per più di 100 ore consecutive senza interruzione e illuminare LED o autoalimentare piccoli dispositivi elettronici. Le attuali pile e batterie a litio in commercio hanno forti ricadute ambientali. Montagna ha così orientato al green la sua ricerca, raggiungendo dopo due anni di studi l'obiettivo di un dispositivo che produce energia elettrica, la accumula e si autoricarica sfruttando soltanto una piccola quantità di acqua di mare. Lighting Sea è una batteria che funziona ad acqua di mare. In realtà non c'è necessità di caricarla con la corrente elettrica e sfrutta dei principi di elettrolisi che l'acqua di mare contiene, legati ad un componente elettronico che ho realizzato, il quale accumula tutta la corrente prodotta dall'acqua di mare e la sprigiona in una quantità massima di 5-6 volt. È una batteria che innanzitutto non contiene materiale che danneggia l'ambiente, è esclusivamente composta da acqua di mare o acqua salina, quindi non ha assolutamente problemi di stoccaggio e problemi di danneggiamento dell'ambiente. In una situazione domestica dove si può utilizzare? Diciamo che tutti quelli che sono i dispositivi, da una lampada ad un piccolo dispositivo elettronico, quale può essere anche una ricarica di un cellulare di 10-15 minuti, piuttosto che delle radioline o altri principi di componentistica elettronica che viaggiano a questo voltaggio. Sul mercato quando si potrà trovare? Allora, in realtà questo è l'inizio anche di una ricerca e di uno sviluppo. Consideri che noi stiamo cercando anche degli investitori che possano comunque aiutarci nella ricerca, ma attualmente così come questo prototipo è già pronto potrebbe essere prodotta già da domani. Potrebbe essere utilizzata in caso di emergenza, cioè quando le batterie si esauriscono su una barca, magari di notte c'è la necessità di illuminare e di fare delle segnalazioni, come poter segnalare delle scogliere piuttosto che dei litorali nei quali non ci può arrivare la corrente elettrica. Quindi l'illuminazione è uno dei primi punti che possono essere associati a quest'idea.